Un cordiale saluto a voi tutti da On Air News, il telegiornale delle macche in onda sui canali di TVRS. Mentre dal mondo arriva la triste notizia del record di contagi, in un solo giorno ben 260.000 da Oxford il nuovo vaccino contro il coronavirus sta fornendo risposte confortanti dal punto di vista immunitario che lasciano ben sperare. Nelle Marche i dati della pandemia sono sempre tranquillizzanti con nessun caso positivo nelle ultime 24 ore, su un totale di 299 tamponi analizzati, 185 nel percorso nuove diagnosi e 114 nel percorso guariti. Restano appena in tre i ricoverati, due a macerata ed uno in terapia intensiva a Pesaro. Ultimo nostro appuntamento del lunedì con l'intervista di Giovanni Filosa con il virologo Iesino dell'ospedale San Raffaele Massimo Clementi. Attenzione soprattutto verso i cosiddetti contagi di ritorno. Sentiamo. I dati del numero totale dei contagi non è molto diverso, è un po' in decremento, ma è quello che ci si aspetta. Ogni giorno ci può essere un piccolo incremento e un piccolo decremento, sono sostanzialmente stabili nel loro complesso. Nell'ambito della valutazione complessiva dei numeri c'è un dato importante da rilevare, direi quasi storico, che è quello dello zero nel numero dei decessi in Lombardia. Non c'era mai stato questo, dall'inizio di marzo, non c'era mai stato questo zero che è importantissimo. Vuol dire che i malati gravi sono sempre di meno e che gli ospedali, i provatissimi ospedali Lombardi, in questo momento non ricoverano sostanzialmente quasi più. I consigli restano quelli di sempre, perché dobbiamo essere vigili, perché invece ci sono dei focolai che principalmente si innescano per una scarsa attenzione alle procedure che vanno evidenziate. Cioè c'è stato un focolaio nei lidi romani in cui una persona che lavorava in un ristorante non ha dichiarato di essere affetto da febbre, quindi avere una sintomatologia, e poi risultato positivo al tampone, ha lavorato due o tre giorni, per cui adesso c'è una certa preoccupazione, perché in questo periodo questa persona ha incontrato un certo numero di soggetti. che potrebbe averli infettati. Ecco, l'attenzione va posta a questi piccoli focolai perché non diventino grandi, perché non sfuggano di mano come è successo in Spagna, perché poi in Catalogna è successo che alcuni focolai non sono stati gestiti all'inizio e poi è diventato un'infezione che ha coinvolto circa 6-700 persone al giorno. Se apriamo la finestra vediamo che il mondo, il mondo per noi in questo momento rappresenta, anzi nel discorso che stiamo facendo io e te, l'America, il Centro America e il Sud America, dove invece sembra che il virus veramente, come diceva una vecchia canzone, stia ballando il tango e si stia divertendo a prendere la popolazione. Perché questo? Perché le epidemie vengono gestite a livello delle nazioni spesso in maniera diversa, i sistemi sanitari nazionali sono differenti, il nostro ha dimostrato una buona capacità di affrontare questa infezione, anche se all'inizio noi non conoscevamo bene le caratteristiche di questa malattia. L'Italia è stata, dopo la Cina, uno dei primi paesi coinvolti, quindi ha pagato anche un prezzo per aver fatto da rompighiaccio rispetto a questa malattia per tutti gli altri. Però le politiche sanitarie sono state diverse, lockdown duri, soft, diversi, nelle diverse nazioni, possibilità di ricovero differenti. Tutto questo poi gioca un ruolo nell'evolversi dell'epidemia. In questo momento le aree principali sono alcuni stati degli Stati Uniti d'America, soprattutto alcuni stati del Sud, come il Texas e l'Arabama, il Brasile in Sud America e l'India. L'India e alcuni paesi satelliti dell'India. Queste sono le aree in cui l'infezione è arrivata più tardi e quindi non ha raggiunto ancora il picco. Il numero di soggetti infettati è molto elevato e ovviamente noi dobbiamo fare attenzione a non avere dei casi di ritorno da queste aree. La Andrangheta, una delle più potenti organizzazioni criminali, potrebbe cercare di mettere radici nella nostra regione, attratta dal suo tessuto imprenditoriale e per la notevole quantità di soldi pubblici destinati alla ricostruzione post-terremoto. Così la Direzione Investigativa Antimafia nella sua relazione riguardante il secondo semestre del 2019. Le Marche al momento non sono sede di consolidate cosche, ma ci sono diversi segnali che suggeriscono di alzare la guardia con diversi beni immobili confiscati, soprattutto nelle province di Pesaro e Macerata e presenze calabresi in varie zone, in specie San Benedetto del Tronto. E veniamo alla pagina della crona, che è stato identificato dagli agenti della squadra mobile di Ancona. L'autore del gesto è avvenuto martedì scorso ai danni di un controllore di Conero Bus in servizio presso l'ascensore del passetto. Grazie alle telecamere di videosorveglianze è stato individuato un cinquantenne che dopo un alterco dovuto al rispetto delle regole anticovide si è avventato sull'operatore sputandogli in faccia. L'uomo è stato deferito alla competente procura della Repubblica per oltraggio a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio. Sempre la squadra mobile del capoluogo d'Orico ha fermato un albanese di 32 anni che si aggirava nei pressi del parcheggio dell'Irca. La perquisizione permetteva di rinvenire addosso all'uomo 5 grammi di cocaina pronti per essere spacciati. 10.000 tute monouso requisite e 36.000 mascherine con false marcature sequestrate. Operazione congiunta Guardia di Finanza, Agenzia, Dogane e Monopoli. Tutta la merce proveniva dalla Cina. Vediamo il servizio. 36.000 mascherine filtranti con dichiarazione di conformità ritenuta falsa e 10.000 tute monouso destinate a fini di speculazione commerciale e quindi requisibili in presenza di superiori esigenze di pubblico approvvigionamento. Tutto il materiale proveniente dalla Cina è stato sequestrato ed in particolare le tute sono state messe a disposizione della protezione civile. La merce importata da parte di una società Umbra con interessi commerciali nelle Marche è stata monitorata dalle fiamme gialle di Ancona fin dal suo arrivo all'aeroporto di Bologna e segnalata alla sede di Fabriano dell'ufficio delle Dogane dove era diretta per l'effettuazione delle operazioni di sdoganamento. I controlli poi hanno evidenziato specifiche anomalie con i reati puniti sino a quattro anni di reclusione che sono stati contestati all'amministratore della società importatrice. L'operazione ha dato prova della capacità di sinergia tra corpi dello Stato nel contesto dell'emergenza epidemiologica in corso nel più ampio quadro della lotta alla criminalità economico-finanziaria della tutela della correttezza del mercato e della sicurezza dei prodotti e della salvaguardia della salute dei cittadini. E proseguiamo con altre brevi notizie di cronaca. Durante un'escursione nel complesso ipogeo delle grotte di Frassassi di Genga un 47enne moldavo ha avuto un problema con le corde è scivolato per alcuni metri perdendo anche il casco di protezione procurandosi escoriazioni e contusioni di lieve entità. Verso le 3 di questa notte è stato raggiunto dai soccorritori che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Profili di Fabriano. Il suo quadro clinico comunque è del tutto rassicurante. Pomeriggio di ordinaria follia quello di ieri in via Trieste sul lungomare di San Benedetto del Tronto un 38enne in preda ai fumi dell'alcol ha danneggiato diverse autoinzoste e successivamente una volta raggiunto nella sua abitazione ha scagliato il proprio cane contro le forze dell'ordine prima di essere arrestato l'uomo si trova ora ai domiciliari. Grave incidente stradale questa mattina in via Brodolini a Recanati una 77enne è stata travolta nei pressi di un passaggio pedonale all'altezza di uno sportello bancario da una vettura che proveniva in discesa da Piazzale Europa le condizioni della donna sono apparse subito molto serie tanto che è stata elitrasportata all'ospedale di Torrette dove si trova tuttora in prognosi riservata. Cambiamo argomento inaugurata la mostra d'Urbino Baldassare Castiglione Raffaello volti e momenti della vita di corte la città di Urbino si fa scenario dal 19 luglio fino al 1 novembre della sua più importante mostra post-pandemica dal titolo Baldassare Castiglione e Raffaello volti e momenti della vita di corte a celebrare la fruttuosa epoca che ha visto come protagonisti della città il divin pittore e il diplomatico umanista stratega militare e autore del cortegiano perfetto ritratto enciclopedico delle maniere da tenere presso una corte segnatamente quella di Urbino in cui si fece trasferire dopo il soggiorno mantovano al servizio di Gonzaga per poter godere delle maggiori raffinatezze e attenzioni all'arte offertegli dai Montefeltro in piena scesa politica. La mostra, curata e presentata al Teatro Sanzio nella giornata di sabato dal prosindaco della città Vittorio Sgarbi con Elisabetta Soletti nella parte letteraria è stata allestita nelle sale del Castellare all'interno del Palazzo Ducale descritto dallo stesso Castiglione nel 1528 città in forma di palazzo per la sua straordinaria estensione e armonia architettonica tra edificio e territorio circostante. Dietro all'intento di narrare il periodo urbinate del letterato il cui destino si è incrociato con quello di altri grandi nomi rinascimentali come Guidobaldo da Montefeltro l'imperatore Carlo V e decine di illustri artisti del suo tempo si cela il tentativo di rilanciare il turismo in sofferenza e di recuperare almeno parte delle celebrazioni raffaellesche che nel programma originario prevedevano la mostra per il 12 di giugno. Oggetti originali a rimarcare la ricerca minuziosa del bello e installazioni multimediali riempiono le sette sezioni del viaggio espositivo in un'epopea lussuereggiante e colta che a Urbino ha trovato la sua massima espressione e dalla quale nasce il concetto di salvaguardia del patrimonio artistico discusso in una celebre corrispondenza tra Castiglione e Papa Leone X dei Medici filo conduttore concettuale di tutta la mostra. Come non ha mancato di sottolineare il curatore Sgarbi si tratta di un modo per ricreare una realistica atmosfera immersiva di corte attenta alla cultura di cui la dimensione politica appare essersi dimenticata. Sarà possibile visitarla eventualmente con la Galleria Nazionale delle Marche con un biglietto unico a 12 euro a partire dal 19 luglio e cogliere l'occasione per godere delle numerose iniziative inerenti ai festeggiamenti di Raffaello organizzati in città nel periodo estivo come l'itinerario Raffaello Bambino per i più piccoli. Le coste marchigiane godono complessivamente di un buono stato di salute quanto emerso dalla storica campagna di Lega Ambiente Goletta Verde dedicata al monitoraggio sullo stato di salute dei litorali italiani. I punti campionati infatti hanno fatto registrare dei parametri tutti entro i limiti di legge in particolare in prossimità di canali e foci i principali veicoli con cui l'inquinamento microbiologico causato da cattiva dipurazione o scarichi illegali arriva in mare Lega Ambiente invita comunque a non abbassare la guardia perché il ritardo nella partenza della stagione balneare e la lenta ripresa dopo il lockdown rappresentano condizioni di contesto molto differenti dagli scorsi anni. 45 anni della vita della nostra Repubblica che ha visto il sindacato in prima linea difendere i principi di democrazia e il ruolo centrale del mondo del lavoro pagine belle come la conquista dello statuto dei lavoratori e momenti difficili come la rottura della federazione unitaria così sintetizza la propria lunga militanza il segretario generale della Will Marche Graziano Fioretti che lascia dopo 22 anni la guida del sindacato il suo successore sarà indicato dal consiglio regionale in programma venerdì al Federico II di Iesi un ricambio generazionale inevitabile ha detto per dare spazio ad un nuovo gruppo dirigente 1.400.000 euro per la ripartenza degli oratori firmato in regione un protocollo d'intesa Andrea Busiello Ripartono le attività socioeducative di 190 oratori delle Marche che interessano circa 9.000 ragazzi grazie anche alla regione che destina allo scopo 1,4 milioni di euro agli 800.000 euro di contributi a fondo perduto tra le risorse per il rilancio economico dell'emergenza Covid liquidati il 30 giugno alle 13 di Ocesi si aggiungono 594.000 euro previsti dal protocollo d'intesa sottoscritto oggi è presentato in videoconferenza tra la regione nella persona del presidente Luca Ceriscioli e la regione ecclesiastica Marche con il presidente della conferenza episcopale marchigiana l'arcivescovo metropolita di Pesaro Monsignor Piero Coccia presenti l'assessore alla famiglia Loretta Bravi e l'avvocato Simone Longhi segretario osservatorio giuridico legislativo REM lo scopo è sostenere le attività degli oratori anche in relazione alla necessità di conciliare i tempi di lavoro con quelli familiari agevolando il rientro al lavoro dei genitori e progetti di formazione degli operatori il comitato di garanzia di musicultura ha decretato la rossa finale degli otto vincitori della 31esima edizione del festival della canzone popolare ed autore 2020 sono blindur con la canzone invisibile agli occhi Fabio Curto domenica Anami contro volontà H.I.R. il mondo non cambia mai i miei migliori complimenti con Inter Cagliari la zero mea culpa miele il senso di colpa Senna Italifornia nel comitato di garanzia di musicultura ci sono tra gli altri Claudio Baglioni Vasco Rossi Sandro Veronesi Gaetano Curreri Dacia Maraini Gino Paoli Ron Roberto Vecchioni ricordiamo che Enrico Ruggeri condurrà le serate finali 28 e 29 agosto all'arena Sferisterio di Macerata il pubblico delle serate decreterà tra gli otto il vincitore assoluto al quale andranno i 20.000 euro del premio finale e ci spostiamo ora a Camerino dove è stata la giornata degli Open Day dei laboratori Unicam presso l'Università Sara Santacchi Open Day e laboratori aperti eventi che abbiamo voluto fortemente in presenza per fare in modo che gli studenti possano entrare nelle nostre strutture nella giornata di oggi verranno accolti appunto nei laboratori e potranno rendersi conto realmente di quello che verranno a fare quando diventeranno i nostri studenti e soprattutto avranno la possibilità di valutare tutti gli aspetti innovativi di ricerca e di proiezione quindi nell'attuale mondo del lavoro che sfuggono a volte grazie alla presentazione classica del corso degli studi quindi il poter offrire agli studenti l'opportunità di entrare nei laboratori sentire ricercatori che presentano la loro attività dare anche la possibilità di toccare con mano e magari sperimentare qualche cosa crediamo che sia estremamente importante per sostenere la loro scelta consapevole del percorso degli studi dopo un lungo periodo in cui per forza di cose si è svolto tutto online o comunque quasi tutto diventa ancora più importante poter toccare con mano sì quest'anno il nostro open day invernale siamo stati costretti ad organizzarlo in modalità virtuale e da quello ne abbiamo organizzati anche altri però con grandissimo piacere il passato venerdì abbiamo organizzato l'open day specifico per il corso di laurea in biologia e la nutrizione a San Menedetto del Tronto ed abbiamo visto in realtà che gli studenti dopo tanta distanza o quantomeno una vicinanza solo virtuale in realtà apprezzano l'opportunità di un contatto diretto per questo sono ben contenta di sottolineare che abbiamo in campo già pianificato un ulteriore open day in presenza che è fissato per il 3 agosto e che comunque grazie all'attività porte aperte in unica ammestate gli studenti possono prendere un appuntamento e venirci a trovare per tutto il periodo estivo quindi questo significa che chiunque voglia conoscerci e che magari oggi ha degli altri impegni o non è stato informato di questa opportunità in realtà avrà occasione per venire a vedere le nostre strutture venire a parlare con i nostri docenti con i nostri ricercatori incontrare studenti quindi percepire realmente la dimensione accademica che a Camerino si sente in maniera forte nasce a Recanati cittadinanza attiva una nuova formula di collaborazione istituzionale innovativa dei cittadini con l'amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni come aree verdi ed edifici pubblici ed interventi di tipo socio-culturale finalizzati al benessere sociale grazie ad una sorta di volontariato civico obiettivo si legge in una nota superare la casualità dell'iniziativa individuale per gestire in modo diverso e condiviso i beni pubblici e siamo allo sport cordoglio unanime per la morte a 104 anni di Giuseppe Ottaviani straordinario esempio di longevità attiva e recordman dell'Atletica Master messaggi sono giunti dal presidente nazionale della FIDAL dal governatore Luca Ceriscioli dal presidente del Conimarca e Fabio Luna secondo cui il popolare Peppe non è stato solo un testimone di eccezione della cultura e dei valori sportivi ma un vero maestro di vita ricordando anche l'accensione del tripode a Senigallia nel 2017 del trofeo nazionale dedicato allo sport giovanile i funerali si sono tenuti nel pomeriggio presso la chiesa parrocchiale della sua Sant'Ippolito vediamo il servizio a lui dedicato di Mario Giannini l'Atletica italiana marchigiana e la città di Sant'Ippolito piangono Giuseppe Ottaviani l'Atleta Master che ieri ci ha lasciato Giuseppe aveva compiuto 104 anni lo scorso mese di maggio ed aveva scoperto l'Atletica a 70 anni quando era andato in pensione dopo l'attività di Sarto è stato sempre tesserato in questi 34 anni con l'Atletica Fossombrone e seguito per molti anni da professor Graziano Bacchiocchi il messaggio che ha lasciato ai tanti appassionati è stato quello che lo sport è gioia e felicità ed anche un mezzo per coltivare amicizie vere l'attività che ha svolto l'ha portato alla conquista di tanti successi sia nelle gare di velocità lungo e triplo indoor ed outdoor innumerevoli titoli italiani e mondiali ricordiamo anche la sua presenza al Festival di Sanremo del 2016 e la piacevole intervista con Carlo Conti Ottaviani ha avuto anche l'onore di essere ricevuto dal Papa e dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Giuseppe ispirato serenalmente attornato dalla moglie il figlio e la figlia Marzia questo stadio così come non è presentabile e invece di cercare dei palliativi è necessario fare un intervento risolutivo per quest'anno e per i prossimi perché l'alba manterrà lo status di professionismo così il direttore generale del Fano Simone Bernardini in merito ai problemi relativi allo stadio Mancini l'impianto deve essere sanato una volta per tutti e faccio appello al sindaco Massimo Seri e al vice sindaco Cristian Fanesi perché è impensabile ritrovarsi sempre a discutere sulle solite cose quanto all'aspetto tecnico noi siamo forti dice Bernardini di questi 11 contratti dovremo integrarli con altri 10-11 giocatori e stiamo cercando prevalentemente profili giovani perché questa è la mission che la Lega Pro ci richiede e vediamo ora le previsioni meteo per martedì 21 luglio Amici Trebi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà alta pressione sul Mediterraneo e su Italia quindi condizioni meteorologiche buone solo l'arco alpino vedrà un minimo di variabilità però attenzione al caldo si intensifica intanto controlliamo le nuvole a tese sul nostro paese sostanzialmente nulla quindi cielo sereno poco nuvoloso da nord a sud davvero estate piena nelle ore pomeridiane qualche nuvole in più si forma in montagna ma dicevamo senza grandi conseguenze anche se qualche temporalino lo farà vediamo infatti la previsione delle precipitazioni sul nostro paese inizialmente nulla poi ecco che spuntano sulle Alpi queste macchie azzurre sono temporali di calore nulla di più in fin dei conti quindi ci attende un martedì all'insegna del bel tempo in tutto il paese diciamo estate i temporali in montagna ma guardate temperature fino a 32-33 gradi all'ombra pianura padana in zone interne delle regioni tirreniche le aree più bollenti e nelle giornate successive ulteriore rialzo termico ci sarà davvero da sudare per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo e chiudiamo con la commossa partecipazione di amici conoscenti colleghi calciatori ai funerali del giornalista Bruno Ferretti che si sono tenuti ieri presso la chiesa di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno non sono voluti mancare il sindaco Marco Fioravanti dei rappresentanti della Quintana e del Sestiere di Porta Romana e due giocatori dell'Ascoli Morosini e Troiano Bruno ci ha lasciati all'età di 67 anni e l'occasione ci è propizia per formulare le più sentite condoglianze alla famiglia ed in particolare al fratello Andrea con questo è tutto con il nostro telegiornale grazie per la cortesa attenzione a domani grazie a tutti Grazie a tutti.